ho trovato anche un uovo raro rarissimo proprio che leggendario dir poco biondo sei pronto per il ride come sei già lottando non devi aspettarmi stronzo lotta aspetta ma devo usare un biglietto che stronzata scioppa conto l'arrovestio per l'inizio ma ci mancano 100 secondi secondo te mi devo fidare dei pokemon che mi dice il gioco ma mi consiglia pokemon di livello 700 ma dobbiamo continuare ad andare avanti oppure dobbiamo fermarci qua ad aspettare l'inizio cattivin fermiamoci e beh sì allora volevo volevamo fermare te che altrimenti ti andavi dritto senza di noi ciao allora andiamo dritto scattivi fermati è importantissimo il ride di pokemon go nel 2020 poi siamo le uniche persone nel mondo che mi sa che ci giochiamo ancora ho venti secondi vai 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 siediti sul pochetto ma dove c'è la barchetta ma a te l'hai visto è la barchetta oppure la casetta è la barchetta o che è? no dai 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 spamma spamma è di livello 16800 questa qua ci scassa in due va a finire spammali tutto fa Alla clima vai 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 sì mi è conosciuto in campo abbiamo il figlio ehm nulla però non pensavo fosse una cosa del genere no mi è morto il primo ma guarda te cosa ci siamo ridotti a fare ma lui non è neanche a metà vita ma te la culpa che non sei? al secondo ma te dove sei che non ti vedo più? sei morto come di già l'ultimo? eh sì io non lo batto mai se continua così quello di livello 700 me l'ha messo adesso fa tutte mosse non efficaci mi c'è scritto ma che cazzo mi consiglio ma non è proprio bello sì biondo ciao 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 ma non mi sto colpendo ma sarei morto vengo 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 eccomi non lo sai all'ultimo che biondo mi racconta ok ok stai facendo una collezione di zanzare morte non è collaborativo è biondo 35 secondi gli manca un quarto di vita e passa ma facciamo credi nel potere dei pokémon ma io ci credo fino a un certo punto e te non ti vedo più ma che mi sei schiattato io ho il pokémon invisibile ah niente 13 secondi viva i bug beh è stato bello partecipare adesso andiamocene che ci sono le zanzare cube il tempo è scaduto non hai sconfitto il box te l'ha messo nel culo ok aspetta che prendiamo i pokémon un altro uovo sempre dello stesso pokémon di prima e la barchetta mi hai dato indietro il biglietto che ho speso a me sta bene adesso un attimo sì biondo sei sulla strada salve signori là c'è il pokémon grazie per aver visto questo video inutile continuiamo la nostra passeggiata va là